Potete andare. Quattro giorni ancora. Quattro giorni soli. E diremo finalmente addio al loro genere di incompetenza. Sì, signore. Un nuovo inizio. Immaginati. Una colonia forte, signore. Una colonia di cui possiamo vantarci. Sì, ma ancora non ci siamo. Cutter, ho saputo che un esercito di termiti si è mobilitato contro di noi. Contro di noi? Dobbiamo inviare truppe nel cuore del territorio nemico per attaccare quella colonia. Attaccare le termiti, senta, signore, è un suicidio. Esatto. Hai la lista che ti ho cesto? Sì, generale. Queste sono le unità fedeli alla regina. Allora invieremo queste. Peccato, ci sono dei bravi ufficiali. Allora inviare truppe nel cuore del territorio nemico per attaccare il territorio nemico per attaccare il territorio. Allora inviare truppe nel territorio nemico per attaccare il territorio nemico per attaccare il territorio nemico per attaccare il territorio. Allora inviare truppe nel territorio nemico per attaccare il territorio nemico per attaccare il territorio nemico per attaccare il territorio. Allora inviare truppe nel territorio nemico per attaccare il territorio. Allora inviare truppe nel territorio nemico per attaccare il 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 territorio nemico per Un film! Kann man Herzen fragen, ein Kind darum betragen? Kann man es verschenken, mit dem Herzen denken? Sie wollen mein Herz am rechten Fleck, doch seh ich dann nach unten weg. Da steckt es in der linken Brust, der Neider hat der Schlecht gefurzt. Links! 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 2, 3, 4, links! Links! 2, 3, 4, links! 2, 3, 4, links! Links! 2, 3, 4, 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 links! Grazie a tutti.